Ok bella a tutti ragazzi, oggi sono qui per infilarvi la minca in culo così tanto forte che ci passano a toccarlo sopra dopo che avrò finito Oggi per farvi vedere la mia nuova collezione di videogiochi Preparatevi eh, mi raccomando Eccoli qua, sono tutti quelli per la PS4 Allora, il primo gioco di cui vorrei parlare è Outlast Outlast, eccolo qui Questo gioco è un gioco ambientato in un manicomio molto bellino Questa tra l'altro è la versione Trinity del gioco Cioè dentro, come potete vedere, abbiamo ben due giochi Di cui uno è ambientato in una miniera, uno è ambientato in un manicomio appunto Io ho giocato solo quello ambientato in un manicomio Il gioco è molto carino, devo dire la verità, toni molto cupi E questo bisogno di far paura ad ogni costo che a me sinceramente piace Cioè nel senso, perché effettivamente la storia parla di un fantasma Ma il fantasma non viene mai mostrato fino a quasi alla fine del gioco Quindi è un gioco sinceramente che a me piace Perciò, cioè non è quell'horror tipico dell'indemoniato Per farci capire o del posseduto del demonio o dello spirito E' semplicemente una storia di questo giornalista che va in un manicomio Entra dentro il manicomio e che è stato praticamente abbandonato E scopre che dentro ci sono ancora praticamente tutti i matti dentro Che hanno ucciso le guardie, hanno ucciso tutti E' sfuggito dal controllo e si scoprirà anche alla fine perché è sfuggito dal controllo Causa che non voglio dire per non spoilerare Molto bello, devo dire molto costruito bene Soprattutto alla ricerca delle batterie perché per metà del tempo saremmo costretti nel buio E quindi ci sono queste batterie che fanno attivare una videocamera a raggi... Com'è che si dice? A raggi... Infrarossi credo No, no, non infrarossi Vabbè comunque avete capito quelle videocamere che vedono nell'oscurità comunque Quelle videocamere lì e la batteria aumenterà tutto Secondo poi, questo è un altro gioco, si chiama Assetto Corsa Questo qui, questo qui Assetto Corsa E' di... Aspettate che c'ho gli occhiali che non vedo un cazzo Che c'ho la luce puntata La casa produttrice del gioco è 505 games La verità è che il gioco non mi ha impressionato molto Forse perché sono io che non amo molto la simulazione nei giochi Questo lo devo dire Come avevo detto nel vecchio video per chi l'avesse visto Che sbattevo sempre la prima corsa del campionato Vabbè non sbatto più la prima corsa Ma comunque mi fa che la gara spurso il gioco Perché non... Oggi i simulativi mi piacciono più tipo i Need for Speed per esempio I Need for Speed Quelli ad alta velocità dove puoi fare le cose senza dover sbattere ogni 3 secondi Sinceramente uscire di pista Perché... Cioè ho provato pure a scalare marcia Ho provato a frenare Perde continuamente Assetto Cioè mi sembra difficile che... Che una macchina possa superare un'altra con questo livello di difficoltà Comunque... Per chi gli piace il livello di difficoltà di sto gioco Se lo compri non cagli il cazzo Poi... Secondo gioco Secondi giochi Questi qua li ho comprati assieme Questi due giochi Come vedete sono due giochi Sono... Sono Bioshock... Bioshock Infinity Che è un bel giochino Sinceramente Bioshock Infinity E... Io sto giocando a quello... Aspetta un attimo solo eh Io so per non farci una figura di merda Devo ricordarmi il nome esatto del gioco E che non c'è scritto nelle cose Aspettate Quello comunque ambientato nel... Non sotto l'acqua praticamente Quello che è ambientato nel cielo È un gioco molto carino Anzi ha delle riflessioni filosofiche molto importanti il gioco Comunque è un gioco abbastanza vecchiotto L'ho comprato mi sembra a 30 euro nella collettore di... Cioè non a collector Nella collezione di due giochi 30 euro e... O 40 Comunque una cosa del genere Comunque è stato molto tempo fa È comunque abbastanza carino Devo dire che anche qui mi sto... Mi sto arenando Perché non riesco a trovare l'uscita di una cosa Ma questo è poco importante Vabbè comunque Riuscirò a finirlo abbastanza presto come gioco Io negli sparatutto sono abbastanza bravo Non... Non ho problemi Poi gioco che in realtà non mi è piaciuto per niente Cioè non è che non mi è piaciuto Io ho giocato il quarto di questo capitolo Mio fratello Che è più grande di me ha giocato il terzo Ok ragazzi mi si era bloccata la videocamera Stavo dicendo Mio fratello ha giocato il terzo di questo gioco E devo dire che mi era piaciuto molto più il quarto Che non il quinto della serie Comunque vedendo tutti e tre i giochi Cioè perché in realtà c'è anche il primo e il secondo Ma quelli non li ho giocati Perché erano mi sa per Xbox la prima E per PlayStation 2 E PlayStation 3 e 2 Comunque fosse E sto parlando di Far Cry questo qui Un gioco che non ha bisogno di presentazioni Non è tanto che ha fatto male il gioco Ma come ho detto C'è delle piccole imprecisioni Cioè c'è delle piccole cose che a me fanno Mi hanno fatto storciare il naso Cioè comunque la difficoltà del gioco è molto alta È molto alta sin dall'inizio E c'è una difficoltà proprio che io mi sono accorto C'è una difficoltà nel gioco Che è proprio quella di mirare e sparare ai cattivi Non che sia Oppure la difficoltà contraria anzi Cioè che ti mira automaticamente la persona Cioè tu magari vuoi un livello di difficoltà difficile in un gioco E dici Va bene Voglio il livello di difficoltà dove devo mirare io Metti il gioco E mirare lui è automaticamente una persona Quindi per esempio ci sono due persone affiancate Che ti stanno sparando Tu devi sparare a una e invece spara all'altra Perché è automatico il sistema di mirare Me ne sono accorto dopo un paio di Di Cioè non di minuti Però dopo una trentina di minuti del gioco Me ne sono accorto dopo che sono uscito dalla prima isola Comunque la storia è molto interessante Molto Molto ben strutturata Io sono arrivato Se non sbaglio Al punto dove si fa distruggere la No sono arrivato anche dopo Però devo dire che non lo gioco da un po' di tempo Questo gioco quindi È da un po' che Non me lo ricordo Comunque sono arrivato al punto dove si distrugge La statua di questo qui Che non mi ricorderò mai il nome adesso Come adesso Credi prego Vabbè non mi ricordo il nome Comunque del tipo Del cattivo del gioco Che si è fatto fare una statua Perché è una dittatura nel Nel centro dell'America Ed è una cosa un po' Incasinata Vabbè comunque Il gioco sarebbe anche carino Però l'ho detto C'è delle cose che Che comunque Non trovo realistiche Tipo Che se spari Se spari con l'arco Uccidi una persona In un paio di frecciate Se spari con un mitragliatore Lo uccidi In centinaia In decine di colpi Cioè per me Non sa ne in cielo Ne in terra questa cosa Però vabbè È un gioco Cioè non dico Che è brutto il gioco Il gioco è bello Bellograficamente Appagante Però per esempio Il fatto che si trovi Una macchina Ogni mille anni Ogni mille anni Per esempio Per esempio È un vantaggio È a svantaggio del gioco Perché È una mappa molto grande Quindi te la dovrei fare a piedi Tutta lo Cioè per Per tutto il Per tutto il tratto Comunque Stavo dicendo Per tutto il tratto Del gioco Siccome incontrerete Molti animali Sarà una cosa Molto difficile Da 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 sostenere Questa cosa Nel gioco Quindi Non ve lo Cioè ve lo consiglio Se ammate i giochi Super Super rompicoglioni Ma se non ammate i giochi Super rompicoglioni Giocate il 4 Che è molto più bello Poi Secondo gioco Questo mi ha fatto divertire Davvero tanto Davvero ma davvero tanto Ed è Doom Doom Il primo Che è depreso dal primo gioco Non è Doom Eternal Questo È Doom Il primo Cioè la remastered Del primo Gioco È un gioco Veramente carinuccio Devo dire la verità Perché questo gioco Non ha pretese di trama Non devi aspettare Mille 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 ore Di Di dialoghi E cose Nel gioco Devi solo sparare Ignorantemente È quello che sono più bravo a fare E quindi Insomma Mi è piaciuto veramente Molto il gioco Quando spari Per ignoranza Ogni cosa vivente Nel gioco È È Sinceramente Molto appagante Uccidere 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 Sembra un maniaco Sessuale Dicendolo Una specie di terrorista Però È veramente carino Questo gioco Poi questo qui Wolfenstein The Blood The Old Blood Questo qui The Old Blood Chiamatelo come Minchia Volete Non cagatemi il cazzo Stavolta Su Sulle pronunce Vi picchio Vi vengo a cercare C'ho Un sistema Per Permettere il gioco Per Per permettermi Di scoprire Da dove venite Vi uccido A parte Ok Dopo la seconda volta Che Parliamo di Old Blood Che mi si è Rott Fermato La registrazione Comunque Che ho detto Che vi vengono ad uccidere Se vi ricordate Insomma Perché Penso che Sennò tieno questi tagli Prima c'era la luce Ora non c'è la luce Sono tutto sfoccato Prima non ero sfoccato Vabbè Comunque Sti chiazzi Fatetemi La faba Allora Wolfenstein Old Blood Carino come gioco Sì Mi ho preferito Quello prima Che ce lo dovrei avere Qui Da qualche parte Questo qui Wolfenstein 2 Questo qui Che è Che è Ambientato Dove era Cioè Che è ispirato Al primo Praticamente La remaster Del primo Che è stato Per playstation 3 L'hanno portato Per playstation 4 Invece Questo è inattivo Playstation 4 Sì È È un bel gioco Devo dire che Mi è piaciuto Sì Mi è piaciuto Però mi è piaciuto Più il 2 Come ho detto Perché questa Va a delle piccole cose Che Non saprei dirvi Cioè Nel senso Tipo Hai un Posto da sediare Tu dovresti andare In un punto E non ti viene In alcun modo Spiegato Niente Su come arrivare In quel punto Su dove siano Le guardie Cioè devi cercarlo Per terrore So che nei giochi È normale Però ti rompe le palle Perché non Sono Sono labirinti Che le I posti dove va lui Capito I posti dove va lui Invece Stavo dicendo Old Blood 2 Old Blue Old Blue Eh sì Ciao Wolfstein New Colossus Invece È un gioco Molto più Molto più alla mano Cioè molto più Spara spara Uccidi Uccidi Vedi come ti va la vita Insomma Morirai molte volte Soprattutto all'inizio Che ci sono quelle cazzo Di guardie robot Che tu devi cercare Di scappare E aprire le porte Un po' ti fa bestemmiare Però È bello Devo dire che Effettivamente Questo è il mio preferito È inventato nel 1961 Ed è una figata assurda No Che figura di merda Sapete che ho sbagliato Forse No Fatemi vedere No È al contrario Perché questo Quello che mi è piaciuto Scusate È che Come dico È un gioco da molte Quindi Non Non sono Più Più Così Mi ricordino Mi dei titoli Comunque Sono al contrario Comunque La cosa vale Per quello che ho detto Poi Altro gioco Che ho giocato Che mi è piaciuto molto È Titanfall 2 Questo qua Quello che avevo chiamato Titanfall Perché te la mette il falling cool Praticamente È Questo gioco è carino È molto carino Anche questo Puoi controllare i robottoni Spari C'hai i raggi laser C'hai le cose C'hai le bombe Combattimenti fra robot Insomma Tutte le cose che mi piacciono a me Nei giochi Praticamente Il fatto che possa saltare Che possa saltare Molto in alto Che lo rende tipo Un FPS arena Volendolo Volendolo confrontare Non è un FPS arena Perché Non ci sono Tutte quelle 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 specie di Di rifornimenti Di munizioni Ovunque Ovviamente Non sono mappe chiuse Cioè Non mappe così piccole Come quelle degli FPS arena Però è molto carino Come gioco Devo dire Che mi è piaciuto molto Soprattutto per la parte Di robottoni Questo invece Devo dire Che l'ho odiato Nonostante abbia giocato Tutti gli Assassin's Creed Tutti Fino al 5 Però Diciamo che Nonostante abbia giocato Tutti gli Assassin's Creed Che ho giocato Questo gioco Devo dire Che non l'ho sopportato Perché Non ti insegna tutto subito Devi Continuamente andare Andare Sei in ansia Perché non sai le cose Come affrontare i nemici E quindi Devi sempre combattere 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 Però alla fine Non ti insegna niente Quindi Insomma Arrivi alla fine del gioco Che sei tutto Quindi non è Insomma È un casino assurdo Da giocare Ti mette in stress Poi Watch Dogs Non l'ho giocato Quindi non ve lo faccio vedere E questo Questo è molto bellino Si chiama Red Dead Redemption Due Sì Perché l'uno Era quello Per la PS3 Questo è anche Un gioco Molto carino Molto Ben strutturato Anzi Veramente È stato Fatto È stato Da mani Cioè Da mani Cioè Cioè Da mani Cioè Da mani Sì Come stavo dicendo Questo gioco Red Dead Redemption 2 È sempre fatto Da Rockstar Quindi È un gioco Molto Molto Bello Puoi scogliere Gli animali Con delle Cioè Tutte le Cioè Diciamo che Hanno velocizzato Delle operazioni Di vita Che negli altri giochi Non si vedono In questo gioco Si possono vedere Cioè Se dovessero mettere Tutte le operazioni Di vita Che hanno messo In questo gioco Cioè Come Scogliere animali Cucinarli Farli Nella maniera Veloce Come l'hanno messa Cioè Sarebbe Sarebbe Una cosa assurda Cioè Durerebbe anni Questo gioco Già questo gioco Non vi nego Che pesa Già 100 giga Ci vogliono 30 minuti Con la Con la fibra A 1000 mega Per Per scaricarlo Però Insomma È un gioco Veramente Molto carino Devo dire la verità Quella che vedete Dietro è mia mamma Ovviamente Vabbè Comunque È un gioco Molto bello È un gioco Molto bello È un gioco Ben strutturato Ben fatto Con le armi Tutte settate Con Cioè Anche per esempio Se spari Una persona In un gioco normale Vedi Un'animazione Standard Qui Vedi proprio Un movimento fisico Della persona Che viene 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 Tramortita Oppure Che i giochi Che fa Che fa Cioè i giochi Ci sono i giochi D'azzardo C'è la malavita Puoi essere buono Cattivo Per la gente Se sei stato cattivo Cercheranno di ucciderti Come In GTA Devi cercare Di togliere la taglia Insomma È molto carino Questo gioco Lul No Ce ne sono altri due Però ve ne dico Solo uno Perché l'altro Vabbè È una schifezza Anche a quello Crash Bandicoot Crash Bandicoot The Trilogy Questo qua È bellino La trilogia Di Crash Bandicoot Devo dire Che mi ci sono divertito Molto Perché alla semplicità Di quei giochi vecchi Che giocavo Quando ero piccolo Per esempio Con mio fratello Però con una grafica Nuova Tra l'altro Mi voglio prendere anche Spyro Sempre The Trilogy Spyro Trilogy I primi tre capitoli Di Spyro E che è molto bellino Secondo me Comunque Questo qui è un gioco Molto carino Che ti farà Ti farà rimpianci Ti farà scendere La lacrimuccia Perché Già giocato Da piccolo Prendere le mele Tutte le cose È molto carino Poi l'ultimo Che non volevo Non sto recensando Sto un po' Dicendo la mia Sui giochi Però Rocket League Questo gioco A chi piace piace A chi non piace Non piace La verità